Ciao Domingo, la nostra prima locura di Stecker per l'anno 2018. La mia entrata c'è tre Stecker, uno di 10, uno di 20, uno di 30%. Quindi la mia roba è la mia roba, la mia roba è la mia roba, la mia roba è la mia roba. Quindi la mia roba è la mia roba, la mia roba è la mia roba, la mia roba è la mia roba, il prodotto elettronico, elettrodomestico. C'è un tipo di power tools, se c'è un giorno e c'è una marca che non conoscevano di power tools, scogli in placca di Stecker. Tutto lo che conoscevano di outdoor living, è un departamento nuovo, tutto il prodotto è un placca di Stecker. Il prodotto di sanitario che stiamo cercando, oltre, chissà, voglio fare, faccio un cambio, poi tutto il departamento che non conoscevano qui nella mia roba è un placca di Stecker. Solamente nel drive-thru e nel nostro conto, per fare una ventana con la porta e la porta con la placca di Stecker. Per il nostro bar non perdono le regole, perché anche il nostro prodotto di promosione, abbiamo 10% di scuento di Stecker. Il nostro bar è regla, per esempio, quando abbiamo scogli, abbiamo una quantità e varietà molto più grande di prodotto, quindi abbiamo scogli quattro scuento di Stecker. Il prodotto che abbiamo messo in casa. Poi, come sai, c'è domingo ora, quattro di marzo, fai di 8 ore, fino a 3 ore, non stop, non sto guardando. E per me, lo cura di Stecker, vim! Per abo, tambien! Prova ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!